c'è il video dai che bello polveroso c'è il video questa l'ha già fatta vero? sì 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 se vuoi riposare come vuoi l'interpre, gli altri ah tanta la sanna sì 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 ma va a fare tutte le gare ricky diverso ritmo figa le fai tutte le gare le fai tutte le gare le fai tutte le gare forse «pera che festa è la più bella» c'è la più bella uuuh lolli ah grande figa, bella